musica 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 ok anche a me no ancora niente intendevo per il direct se c'era qualche novità no a me non è non so niente su questa cosa in realtà no adesso c'è laguna oddio bello è uguale a quello di prima sono già le tre e mezza io le odio le zattere ragazzi si perchè tu dici otaku cade otaku cade cadi solo tu allora insalate insalate pomodoro si cerca di bufare ma ragazzi no urca questo è il doppio raga no non tagliare quella roba lì tanto non ci serve adesso pomodoro no non ci serve no che cosa sto facendo e cosa serve più niente allora l'insalata vabbè lasciano lì magari è pronto per dopo poi ahhh ok i piatti conviene che ve li puoi ho lo stile o allora piatti fateli voi vi passiamo gli ingredienti no raga vabbè l'insalata appena pronta eccola lì riempi ehm persi ok mamma mia questi giochi ok giù prendilo prendilo è difficile questo perchè riescono di tarsi l'insalata sono insalata serve l'insalata? si no anche ah no ok no eh il pollo non lo racconta no ho sbagliato altra insalata si arriva arriva arrivo arrivo ok intanto sto facendo qui i piatti sono di là o si devono lavare? ma come sto raga allora pollo ok ragazzi appoggia 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 mettilo lì qualcuno che mi parte piatti da lavare? io che c'è un pollo che c'è una patata pronta qua da consegnato mi metto qui vi passo la patata oh arriva eccola bella ma non c'erano due di taglieri ce l'ho già pronta ce l'ho già pronta uno ce l'aveva noi di tagliere ah ah no è qui il tagliere è sotto il piatto ecco perché Lorenzo metti la patata nel piatto un attimo un attimo no lanciatemela lanciatemela eh no no non è finito il piatto non è finito il piatto eh lo so è che vai aiuto vai 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 piatto e il nostro toku appoggerlo sul nastro il piatto mi si sono bloccato ma cade dentro qui ah ok ma perché sono caduto ero esattamente nel bordicello toku ci date questo aiuto mi si sono bloccati tutti ma poi è erzi sei ferma eh ma no vedi dovevo metterlo qui eh no perché non mi fa muovere voi siete tutti Lore prendi il piatto prendi il piatto aspettate raga nasce che crashata erzi mi sa sì sì non la vedo più no neanche io la vedo blocchiamo ringraziamo la fast web per tutto questo che mi sta facendo passare io firmiamo una petizione per farmi andare da fast web a reclamare ho bloccato tutto eh ho bloccato tutto perché ho visto che si è proprio sparita dallo schermo stavolta si è crashata eri ferma e poi si è crashata che casino c'è oggi mamma mia e adesso come entro? è un periodo aspetta che finita il livello e poi no 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 siamo usciti ok che periodo no eh è infatti aspetta ok ok vabbè dai noi dobbiamo essere sempre positivi ragazzi sento erzi che tipo parla con me ok adesso dovrebbe andare più o meno eh allora più o meno ragazzi sì sì no io sento tutto sento solo erzi che ha la voce robotica allora ma quindi io sono il gatto passatemi un'insalata sì no lo possiamo tagliare pure noi eh ah ma no raga non sono non sono il gatto sono il cinese oddio no sono io il cinese no Lorenzo tu sei il siete due cinesi ma raga mi ricordo che possiamo tagliare pure noi eh sì però eh conviene fare una roba voi ci passate i nostri ingredienti e voi e noi vi passiamo i vostri ah ma non è tagliata poggia porta piatto poggielo lì vai no no raga raga sta l'intanto ingestibile gioca con voi non vi immaginate questo deve essere io mi immagino allora calma 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 ciao eh il piatto me lo tengo qua tanto qua allora ecco fuori il pollo raga troppi ingredienti state mettendo aiuto mettetelo poggielo 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 bravissima mi serve una patata faccio io si la sta tagliando sta arrivando ecco e allora questa la lascio qua no da cucinare da cucinare raga i bianchi eh ma serve a loro allora tutta la via quelle patate lì tanto ce l'hanno già vai di piatto giù ok lasciatelo girare che riva ma lascialo lì che riva portata pronta portatemela portatemela si il piatto Lorenzo non li anche il pollo anche il pollo questo è vostro il carrellino raga lo mettiamo qua arrivano arrivano ma non lo buttare lo appoggiavi sulla oh ho fatto canestro mi serve un piatto di sola patate di sole patate ma mi sentite o o non mi va l'audio adesso taglio le patate serve l'inserzo da fare anche i piatti ecco lanciate le patate no no ragazzi state cucinando troppo di tutto calma basta patate non ci servono basta patate lasciali là perché ho sentito che vi servono le patate questo c'è un pollo pronto consegniamo qui c'è un pollo che non mi serve a niente questo sta arrivando un pollo no è caduto il piatto con quello pronto no l'ho buttato io perché mi sono sbagliato mettimi il piatto no non metterlo lascio lì aiuto c'è il piatto nel tagliere sto fregando le cose a ehm ok vi serve l'insalata no il pomodoro raga non si unisce le zatte pomodoro veloce perché sta scadendo la ricetta tipo non so come spiegare ok pollo pollo raga pollo prendo taglio l'insalata ok qui c'è ok il piatto ridatemi il pomodoro ridatemi il pomodoro dai abbiamo il pollo pronto abbiamo il piatto pronto abbiamo il piatto pronto un piatto pronto adesso ci serve un pollo che vi metto qua tenete l'insalata ma dovete tagliarlo il pollo se non sbaglio vi servono i pomodori io li abbiamo tagliato no pomodoro no no si si lancene uno lancene uno patate ce n'è uno lì patate raga vai a tagliarlo taku no ho sbagliato questo anch'io lancia un altro pomodoro si passatemi il pollo pronto butta via quel pollo che ti ho passato questo qui lo lancio a loro aiuto lo lancio a loro questo no dobbiamo tenerlo noi questo è vostro da lavare oh i piatti piatti eh non li avevo visti da lenzo puoi togliere il pomodoro di là passatevi il pomodoro piatto piatto 259 dai 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 raga avete il pollo pronto qui c'è il pomodoro manca il piatto tagliate la patata come il tempo scaduto 304 non male dai almeno una stella l'abbiamo presa mamma mia non mi ero proprio resa conto che era già scaduto il tempo siiii ho sbloccato il polpo pure dai Si possono regalare le skin in questo gioco? Non lo so Vabbè la cosa delle skin costa 2 euro Ma tanto una skin non ti cambia tanto Nel senso L'unica cosa è che adesso voi due siete due cinesi E non riesco a capire chi è chi Eh io quello verde Siete di colori diversi Eh però io non riuscivo a capire se ero con Lorenzo o con Otaku Perché prima erano di altri colori No Non siamo cambiati di colori No no Ok scusate 4.3 Siamo vicini alla peroria Sì dobbiamo far bene adesso perché ci chiedono un tot di monete Cioè un tot di stelle Sì sì ma mi sono Grande questa cucina Cioè l'insalata La carne Qui secondo me ci chiedono Non si può passare Allora io Se mi dite quello che vi devo passare ve lo passo intanto lavo i piatti Ah io sono Allora serve Ma che cavolo Cosa sta succedendo? No ma Ma cos'è? Che figata Che figata Oddio Io sono morta schiacciata tipo d'astico Io taglio Io taglio raga Bella giù Taglia Insalata Ragazzi ma fatemi capire Oddio ma cosa? No allora No ma è impossibile Le cose per passare Penso che siano solo per i cibi Non per noi perché No 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 È impossibile Devi proprio passare sopra Sono girata Ma non c'è una cosa per rallentare sti cosi Ah no però aspettate una roba Facciamo così? Si girano raga Si girano questi Cambiano senso Che stai facendo? No Gio guarda che straveloce Ecco Ok perfetto Eh ma chi la taglia? Lui Ah bisogna No bisogna passarcela Dobbiamo passarla Tieni Taglio Lorenzo Taglia lancia e cuciniamo Lanciamela qui Per lette una alla volta No no Mi sa che mi arriva In ritardo In ritardo No Non girala Lanciala Lanciala autaku Lanciamela qui Non così Cucina Ah così In quel senso Ok Arriva altra carne Ragalattuga mi serve E io la carne la passo a voi? Si lanciala Si perché voi avete i panini No Ok ragazzi Mi serve la carne Qui ve la lascio qui Allora Eh si prendi la carne Mettila nel panino E ridammi la pettola No no Stai la Stai la No no Abbiamo sbagliato Qui c'è altra carne Consegnalo Bravissima Ho salvato un cliente Gio la carne Venga Ok No ho sbagliato Non te la devo mettere nella No 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 Non devi lasciarla a me Questa La devi lanciare a lui Mi serve della carne Perché io sono da questa parte Allora Mi serve La tua Chi taglia? Chi è che taglia? Lorenzo? Ecco Sì sì Lorenzo si occupa di tagliare La carne Se no non riesco a prenderla Pardon Andare a prendere i piatti Ah i piatti su qua Ok dopo ve li porto con il nastro dopo Ma sono già arrivata Mi serve carne E infatti manca la carne C'è uno che sta tremando Fate quello che trema No Che è che trema? Ci sono i piatti Piatti di qua Qui lì c'è Dalla carne Ok La carne E anche qui Non mi serve Ragazzi Persi No ma No I piatti Lava i piatti Aiuto Raga La carne è pronta Raga Che nervi Sono finita d'acqua Quanto odio Passate un'altra carne Anche questo Vai lasciate la carne Lasciate la carne Diciamo che questa cucina È impostata già organizzata Sì diciamo di sì È più divertente Ci sono i piatti pronti Vai a prendere altri piatti Ersi Scusami se ti faccio lavare i piatti Però Almeno siamo un attimo organizzati Allora Non sto capendo Mi sa che sto crescendo di nuovo Sto presto nel tempo Poggia Poggia C'è altra carne Ci sono i piatti Piatti 15 secondi Vai giù 10 secondi Che ansia La carne La carne La carne Poggiala dentro Qua 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 Poggiala lì No No Peccato Peccato No No Abbiamo arrivato a 340 Dai Ma dai Abbiamo giocato 3 stelle Allora L'abbiamo iniziato male Non sapevamo come fare Comunque 4 stelle Sono facili Sì ma anche il fatto che Lorenzo Tirava la carne a noi E non a Utaku Ci ha fatto perdere un po' Di tempo Sì lanciala sempre a Utaku Intanto ce l'ha occupato lei Eh sì Beh me ne sono accanto dopo Perché Se Lorenzo passa a Utaku Noi a Lorenzo Quindi Aspetta Ah ok No niente Allora noi passiamo la roba a Lorenzo Lorenzo la passa a te È un triangolo Sì allora Noi passiamo tutta la roba a Lorenzo Lorenzo passa solo a me E io la passo a voi È un triangolo Solo la carne a Utaku Il resto tutto a noi Sì L'insalata la lancio È perché pensavo di lanciarvi l'insalata E dopo mi sono accorto che era la carne E Lorenzo i piatti me li vengo a prendere io Se no poi ti distrai dalle cose da tagliare E facciamo No no Tranquilla i piatti Basta che li appoggio lì E vanno verso di te Ok Il problema è che Vado sempre al nastro Non riesco a Tantate la carne a lui Bella lì Arriva Ersi tu occupati dei piatti poi da lavare va È che è difficile tirar la carne a Utaku Perché lei è Bella in basso Quindi È difficile Devo andare su un altro trasportatore praticamente Risse di cadere No 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 Passagliela Utaku Un'altra carne raga Oh mio Dio Mi si è avvocato su È no toglietela da qui No non prendere i piatti Prendi questa Questo Mettila lì dentro Grazie Ah manca il sorgaggio Altra carne passata a Lorenzo Basta una carne Ragazzi una carne mi serve Vabbè basta Ok Formaggio Che fare due panini La carne è pronta Vai mettiamo nel primo panino Ok Ersi consegnalo il primo Il primo Il primo No 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 Era il primo a sinistra Eh ho sbagliato Scusate Un'altra attura Non l'ho fatta Tranquilla 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 Allora Ersi Ti porto io i piatti Ersi No raga Sì se no Con calma Con calma Quante cose ci sono Perché Ok Eh Lorenzo Sposta il piatto Dall'unico Perché non sta andando Arrivo 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 Un attimo Ok Ma Quale bug Ok Arriva Carne pronta Arrivo No è cambiato Io lo sapevo Altra carne pronta Perché non metti Il lavandino E i piatti vicini Qual è il vostro problema Scusate Cioè dovete proprio Complicare la vita Romperci Romperci Altamente Questa cosa Ah piatto Carne Mi serve una carne Arrivo 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 un attimo Lì non riesco a prenderlo Ersi mettila te Ersi mettila te Passami la carne Sì sì Stanno arrivando i piatti No No Ha cambiato di nuovo il giro Oh mio dio che ragazzi Sto morendo di caldo Non so voi Eh mamma No 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 Vieni Bye Ok Un attimo raga perché È un casino qua Quanta roba mi state lanciando Un attimo raga Dopo mi confondo con la carne Mi si è bagata La carne è diventata verde Finita la carne Tipo Mi serve il formaggio Arrivo arrivo Raga il formaggio mi si è bagato Ma perché mi lasciate la carne Dopo non le va addosso il formaggio Fai lancia Avevo messo il muto che era entrata mia madre Scusate Tranquilla tranquilla Carne No ragazzi Cioè Voi non mi immaginate Quante carne è Ok Lorenzo Un bel po' di roba adesso Converso la conversazione tra mia madre 3,22 No non lì Non metterla qui Ersi Mettila qui Otaku Hai la carne Ersi Hai la carne Hai la carne lì Puoi cucinarla No Ma raga Mi si è bagata Aiuto 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 Ah io cucino Cioè io non Non tengo obama degli ingredienti Io taglio No e ormai non ce la facciamo Carne 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 Eh non ce la facciamo No no Sì però il livello 3,65 Rifacciamo Rifacciamo Sì Rifacciamo Vuoi rifarlo ancora una volta? Sì perché se ci sono tante stelle più avanti Rischiamo di non averle È vero Però eravamo arrivati a 400 Abbiamo perso soltanto un paio di ricette Anche perché Anche perché questo livello non è tanto difficile Quindi qua Anche 3 stelle riusciremmo a farle Sì è che Ci stavamo concentrando poco all'inizio Secondo me Poi non Ho visto solo carne dopo un po' Cioè ma quanta carne vi serviva? Eh praticamente c'erano 3-4 panini Che chiedevano solo carne O al massimo formaggio e carne Sì sì Ah ok Ma la lattuga proprio Non se la calcola nessuno No in sto giro no Eh no io Io taglio perché mi sta arrivando 50 robe Poi devo dare i piatti a A Ersi che cambia sempre direzione Quindi non ci capisco più in avanti Infatti mi dà il nervoso quando cambio direzione Io taglio senza guardare le ricette Quindi dipende da voi Dovete voi dare gli ingredienti giusti Ok Però è divertente a tagliare Soprattutto in questo livello Io sto mi rendendo di caldo Allora Cosa stai facendo? Passagli la carne a Ersi passa la carne a Lorenzo Dagli due pezzi di carne e basta che avanzano Otaku? Eh c'è No ha già tirato la lattuga Otaku? Eh Otaku? Ci sono ci sono Ah ok ok Sì sono ferma perché non sta abbastando niente Non mi serve sta lattuga Eh diamogli il formaggio Stai pronta No Stai facendo lasciando voi la carne Ersi formaggio Arriva 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 il formaggio Non consiglio Ehm Mi è arrivata lì la carne Me la puoi mettere Grazie Ok Formaggio passa Ersi metti della carne in un panino Carne Ok ok Che non l'avevo vista Ti passo del formaggio Lorenzo Carne pronta Mettila nell'altro panino Ok No no raga I piatti Lorenzo Eh un attimo un attimo Perché mi state lanciando 50 robe insieme Ok tieni i piatti Eh Oddio sono di qua Passate altra carne a Lorenzo Poi lattuga Carne pronta Formaggio No Ok Gio di qua ci sono i piatti Sottotitoli Arrivo arrivo Sapevo io che cambiava direzione Quindi mi aspettavo con i piatti Carne pronta Formaggio Formaggio Eccolo lì Eccolo lì Vai vai Carne pronta Guarda il panino sulle carne No lanciatemi il formaggio Lanciatemi il formaggio E potete fare il panino con il formaggio Che è quello più richiesto Allora la carne È di qua Ok Metti anche il formaggio lì Metti anche il formaggio Faccio io Aspetta No è cambiata la direzione Ok Sì guardate 3,50 Dai stai mandando l'addio È infuocato Un formaggio Arriva alla tuta Arriva alla tuta La carne è pronta Ok Arrivo Tieni Ok Il primo panino è pronto Dai Che bello Che bello che è infuocato Finalmente Lo vedremo ancora per poco Dai Perché devi dire così Aspetta Lo sto Spegnendo il fuoco Tu fai come l'altra volta Che gufi Vai Due panini solo carne Tu fai Tu fai come? Due panini solo carne Come l'altra volta che gufi Ah No No Non è vero No ragazzi Datemi Arriva Carne pronta L'avete lanciato in acqua Hersy Mettilo nel panino Wow Cioè Giù Hai lanciato un formaggio Nell'acqua E un formaggio Nel confus Nel stile Ok Ok Carne pronta Ancora Cioè Raga La mira Proprio Inizia a mancarvi Ok Raga La tu che è La tua No La tu che è carne La tu che è carne Dai 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 Eh Giù mi hai messo la padella Eh scusa Ok raga Carne 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 mi manca Sì sì E basta Ci sono i piatti Pronto Raga 30 secondi Ci possiamo fare Scusa 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 Ostaku Ci sono Ci sono Un po' mi confondo Troppo incredibile L'abbiamo fatto Dai dai Venti secondi No no Non per così poco Mi prego Dai dai Consiglimi la carne Consiglimi la carne Non per così poco Velocissimi Vai Scatta No 3 2 1 E fatta E fatta E fatta E fatta Siamo stati bravissimi Qua Wow Pensavo fosse 640 Non 520 No no Era sopra Eravamo sopra Di un bel po' Qui ragazzi È stata dura Però ce l'abbiamo fatta Ma eravamo più organizzati Eravamo molto più organizzati Sì Ersi Ti sentiamo È che io sento a scatti Vorrei evitare il fatto Che se vuoi mi sentire a scatti Non lo so No Allora Io ti sento pulita Però forse Sei tu che laggi Perché Senti scatti noi Ma Vabbè Prova a chiudere Riappella chiamata ancora Mi dà l'impressione Come se Oh attenzione Livello extra Livello extra È un livello sclero E c'è l'osso Quindi è Kevin Proviamo Kevin no Vai vai Ti divertiamo Ma Kevin Io non Attenzione che non è complicato Però No Ma non vede Il cibo a bambino Non è complicato No no Non è complicato No nel senso che non c'è da volar giù qua Beh No Allora io lavo Io non so A vapore Io odio le cose a vapore Allora Taglia carne o verdure E aggiungi la farina Poi cuoce a vapore Ok Allora li faccio come prima che lavo allora Io continuo Non c'è lavo Io taglio raga Io devo tagliare Io devo tagliare Dove sono io Allora carne Io vengo qui a tagliare Eh I due cinesi I due cinesi tagliano Tanto Gesù Che cosa è successo No No perché hai lanciato la carne Oddio Ma si muove la carne Ma dove sono le padelle Chi è morto Sono 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 morto Ok bisogna aggiungere la farina Ancora Farina Io non ce lo faccio Qui c'è la farina Dov'è che va aggiunta la farina raga Non so come Dentro dove c'è la carota Ok Tranquilli eh Non cadiamo Veniamo solo in vestiti No Basta Ho paura di attraversare Un è pronto Un è pronto E dove sono i piatti sporchi Perché qua sta bruciando qualcosa No No Questa doveva essere Non la dovrebbe essere questa Quella nel piatto Nel piatto Nel piatto Nel piatto Nel piatto Nel piatto Otaku nel piatto Sopra In cima In cima In cima Mi sto perdendo Mi si è bugato E ho visto Otaku uscire dal cestino Consegna Otaku Consegna Ho paura di trovare No 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 ma ci avevi anche dall'altra parte Raga la farina Oddio Oddio Qui ragazzi Non dobbiamo Qui il trucchetto è Non attraversare la strada Sì tanto si spostano le piattaforme Aspetta Sì Io direi Ma io ne sto Perché non me lo mette No 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 Sto bruciando Cosa sta bruciando Cos'è questo Eh ci serve la farina Devi lasciarlo là Io Dov'è che devo portarla Eh no però È la luce Stavo dicendo Io direi Non so Far la cucina a vapore Non l'ho ancora provata io nella storia Devi prima Prima tagliare tutta la roba Metterla dentro qualcosa viola E poi Metterlo dentro il cestino Va bene Comunque stiamo facendo davvero schifo Ok Allora Dato che Siamo meno 37 Ma se i gatti hanno 7 vite Perché questo muore? Dai che le carote sono quasi pronte Ok io metto la farina qua dentro Oh ce l'ho fatta Eh vabbè Qua c'è una carota pronta O È pronta sta carota Fammi passare però Oplà Mi serve carota e farina Ma poi chi è che Cosa la serve Questo uomo? Io ragazzi sto prendendo il giro Comunque Sì Anch'io No va Doppia farina no però Clienti che ci fanno Vento E allora lo vado Lo devo buttare questo Buttalo buttalo Raga Raga Riconinciamo È inutile È inutile Sì ma Io non ho ancora capito cosa fare Perché sto solo aspettando i piatti È sparito raga No ragazzi abbiamo 20 secondi fa Schifo Raga è sparito il secchiello È sparito il secchiello Arrivo Arrivo Ce l'ho io Ma noi serviamo i clienti Poi loro arrivano Ci fanno vento E ci fanno perdere Ma vedi tu No ma raga è un casino Meglio ricominciare ormai Sì infatti Sì Ci ho Manca due secondi Infatti Mamma mia Lo sapevo che non era facile Perché ogni volta che c'entra Kevin Non è mai facile No ma io direttamente non la so Sto cominciando a odiare quel cane Dai passiamo Passiamo al prossimo livello Va questi qua li schipiamo Al massimo faremo un altro giorno No perché qua bisogna essere belli organizzati Se no non ce la fai Sì e poi sono i primi livelli ancora Che stiamo facendo in quattro Quindi nemmeno siamo tanto organizzati ancora Ciao Ciao Ciao